Penso che posso crescere, perché durante il ritiro ho fatto la parte atletica, ma non sono mai sceso in campo, quindi penso che migliorerà. Onestamente posso giocare un po' da tutte le parti davanti, sia a destra, a sinistra che in centro, quindi diciamo che la posizione veramente non importa, soprattutto che dipende anche dalle partite, a volte ti trovi meglio sul lato e a volte più in centro, quindi non importa veramente. Penso che abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato bene di squadra, siamo stati un po' fortunati all'inizio, ma penso che anche senza questo abbiamo giocato bene, non è che siamo andati lì timorosi, abbiamo affrontato la partita come si doveva. Le mie impressioni già prima della partita della squadra erano buone, quindi è solo stata una conferma. Al minimo dovevamo uscire con il 0-0, diciamo al minimo, poi stava ancora un po' di tempo, noi stavamo bene, c'era spazio, quindi penso che era possibile di fare qualcosa, di ottenere magari una o due situazioni di gol, e purtroppo non è stato così, perché dopo il rigore loro si sono chiusi dietro, quindi è diventato complicato, anche su un cartellino rosso che secondo me non ci stava. Era un fallo impressionante, diciamo impressionante perché è andato con un atteggiamento un po' forte, ma non era un gioco pericoloso, diciamo l'ho preso pieno ma non era pericoloso. È ovvio che con la squadra che abbiamo e con la mentalità nostra scendiamo in campo sempre per ottenere il massimo, e sicuramente domenica affrontiamo la partita per fare tre punti. Mi preparo e sto mentalmente come se fosse ancora in B, diciamo non guardo che non è la Serie B, è la Liga Pro, non guardo così, guardo solo che abbiamo una squadra, dobbiamo fare bene, sperando che anche io faccia bene, quindi diciamo non lo vedo come un passo indietro o qualsiasi cosa del genere. Personalmente spero già scendere in campo il più spesso possibile e poi fare buona prestazione e magari anche fare un po' di buone statistiche, sia gol che assist.